Musica Mercoledì 20 novembre, buongiorno e bentrovati con la nostra rassegna stampa. Prima della lettura delle prime pagine dei quotidiani locali e nazionali di oggi, i nostri servizi, partiamo dall'Abruzzo, il comune di Pescara cerca 10 giovani laureati inoccupati per renderli tutor di un gruppo di net, i giovani che non lavorano e che non cercano nemmeno un'occupazione, non solo, al via anche un progetto per creare spazi di dibattito tra i ragazzi. Valentina Ciarlante Dal coinvolgimento dei NIT alla creazione di punti aggregativi nei parchi della città, il comune di Pescara guarda i giovani per dare loro stimoli a essere proattivi, ad avvicinarsi al mondo del lavoro, ma anche semplicemente a confrontarsi, a stare insieme. Hanno preso il via in contemporanea due iniziative, la prima è relativa al bando appena pubblicato Tenace, con cui verranno selezionati 10 giovani laureati tra 25 e 35 anni inoccupati. Dopo un percorso formativo diventeranno tutor di altri 30 NIT, ovvero i giovani che non lavorano e che non cercano nemmeno un'occupazione e che in Italia sono più di 2 milioni. La scadenza per presentare le domande è fissata al 9 dicembre alle ore 13, i dettagli dal sindaco Carlo Masci. Dovranno pensare, ideare e realizzare un progetto per la città. A seguito di questa attività i laureati otterranno dal comune 2.300 euro e i giovani diplomati o non diplomati otterranno 700 euro alla fine del percorso che durerà un anno. Questo progetto è stato portato avanti da diverse associazioni insieme al comune perché noi operiamo sempre in coprogrammazione e in coprogettazione. Nell'incontro con la stampa l'assessora allo sport Patrizia Martelli ha presentato anche il progetto parchi in comune finanziato dalla regione con 23.793.000 euro. 55 giovani tra 14 e 30 anni saranno coinvolti in dibattiti interattivi su dipendenze, parità di genere e disagio psicosociale da svolgersi nei parchi pubblici della città. Daremo la possibilità ai ragazzi insieme ai loro genitori ma anche agli operatori del comune di pescare del terzo settore di operare insieme, di avere un contatto a vis-à-vis. E questo è un importante progetto per dare la possibilità ai nostri ragazzi finalmente di riattivarsi, di rientrare nella nostra società. Ed ora ci spostiamo ad Isernia. I consiglieri comunali di minoranza Cesare Pietrangelo e Claudio Falcione intervengono sulla realizzazione della nuova sede della prefettura nell'area in cui sorge l'ex edificio scolastico Ignazio Silone. Si dichiarano contrari alla concentrazione di diversi uffici ma favorevoli a una rivisitazione della parte progettuale con modifiche alla iniziale proposta da parte del sindaco Castrataro. Ci dice tutto Pasquale Damiani. Riflettori accesi ai segni sulla demolizione e ricostruzione dell'ex edificio scolastico Ignazio Silone, attuale sede dell'ufficio tecnico comunale, per la realizzazione di un complesso edilizio da adibire a sede di diversi uffici tra cui la nuova prefettura. I consiglieri di minoranza Cesare Pietrangelo e Claudio Falcione chiariscono la loro posizione contraria alla concentrazione di diversi uffici ma favorevoli a una rivisitazione della parte progettuale con modifiche alla iniziale proposta di concentrazione di uffici, puntando così alla realizzazione di un edificio che permetta di conservare il campetto di calcio e destinare l'area prescelta solo per ubicare prefettura e uffici comunali. Una vittoria c'è stata, abbiamo ottenuto dal sindaco questo fatto, che sarà rivisto il progetto, ovvero il progetto ancora non c'è, ma sarà riconsiderato il progetto, perché noi abbiamo chiesto che tutto può essere rivisto e riconsiderato e siamo pronti a sostenere la realizzazione della prefettura ma a determinate condizioni che abbiamo detto in consiglio comunale, ovvero la salvaguardia del bar, del campetto e la dislocazione degli altri uffici nelle zone dove già insistono, appunto come la Camera di Commercio e come i vigili urbani. Se tutto questo ci viene garantito siamo pronti a rivedere la questione. Adesso la nostra mozione rimane valida. Però se c'è questa intenzione di posizionare l'edificio prefettizio nel centro di Serna in quella zona bisogna rivedere molte cose, quindi il campo di calcio deve rimanere così come pure le altre strutture che si ritengono o si ritenevano di posizionare tipo la Camera di Commercio, tipo i vigili urbani e così via in quell'ambito, in un modo talmente costretto e delimitato, lascia molto da pensare. Quindi se ci saranno delle valutazioni diverse il tutto potrà essere valutato sicuramente in modo positivo. Aspettiamo questa prima progettazione preliminare così come aveva accennato il Sindaco e vedremo poi successivamente come affrontare il tutto. Ed ora partiamo con la nostra rassegna stampa. Andiamo a vedere insieme le prime pagine di oggi sui quotidiani regionali. Partiamo come sempre da primo piano Molise. In apertura il decreto Molise, regione ottimista, scrive primo piano Molise. Roberti, il governatore, conta sull'emendamento alla finanziaria ma non esclude provvedimenti successivi. L'assessore Iorio ringrazia la deputata Lancellotta, lavoro di squadra. Da 15 anni viviamo una condizione che ha solo danneggiato la sanità. Poi a centro pagina c'è la fotonotizia riguarda la cronaca frontale tra Cerce Piccola e San Giuliano. Muore una donna di 70 anni, originaria del Venezuela. Si era stabilita da anni in Molise. E poi i vertici nazionali Anci. La sindaca di Campobasso, Maria Luisa Forte, verso la vicepresidenza. Oggi a Torino la formalizzazione alla guida dell'Associazione Il Primo Cittadino di Napoli. E poi Unimol Brunese pronto al passaggio di consegne. Si vota il 9 aprile. Ed ora dentro la notizia. Capracotta, faida tra tartufai, auto divorata dalle fiamme. Come atto intimidatorio e poi ancora spostamenti politici Luigi Valente lascia azione e prepara il trasloco verso noi moderati di lupi. E poi Pesca, Italia, Spagna e Francia unite per sostenere le marinerie europee in difficoltà. Vediamo ancora in taglio alto di spalla l'influenza virus respiratorio sincenziale, vaccini gratis per i bambini. Ed ora la notizia a fondo pagina che arriva da Campobasso riguarda l'allarme e sicurezza. Il consigliere comunale Colagiovanni sospende lo sciopero della fame ma la protesta non si ferma. Chiederò un tavolo permanente, dice. Ed ora il punto di oggi su primo piano Molise a firma di Giovanni Mascia. Molise e Puglia, legame millenario. Ed ora le notizie che riguardano lo sport sotto la testata. Campobasso, Virtus, Sentella nel Merino. I lupi di Braglia puntano ad allungare la serie. Serie D. Lisernia prepara la trappola al notaresco a Termoli e sciopero del Tifo. E poi Coppa Italia regionale. Oggi si conosceranno le quattro semifinaliste. Ed ora da primo piano Molise ci spostiamo sulla prima pagina del centro Abruzzo. In apertura il centro si occupa di clima e titola Clima cambia Abruzzo. Vendemmia tardiva e minore produzione di olio. Ecco gli effetti sull'agricoltura. Col diretti, imprese chiamate a nuove sfide. Intesa sui danni dei cinghiali. E poi c'è la foto notizia. Sada salvato dal calcio. Dal Senegal all'Abruzzo. Il viaggio in gommone e la nuova vita ad Ortona. E poi ancora l'intervista a Santo Stefano di Sessanio. Borghi interni da salvare con storia e turismo. E poi ancora la manovra Pescara. Il voto in consiglio finanziaria da 5 milioni è scontro. Pescara debiti all'EMP. Parla valori. Subito un piano di salvataggio. Ed ora le notizie a fondo pagina. Ancora Pescara. Al via gli sfratti dei condannati. Masci dice buttiamo fuori chi non ha diritto. Blitz a Fontanelle. Sgomberate le prime due famiglie. Poi Appianella ha un chilo di droga dentro casa. Asa arrestato e appenne torna dal Canada per la festa della Contrada. Ed ora in taglio alto una notizia che riguarda lo sport. Pescara primo col poster dei supereroi. All'interno lo speciale di otto pagine del centro con la capolista Ibaldini raccontati da chi li conosce bene. Ed ora dal centro ci spostiamo sul messaggero Abruzzo e vediamo insieme l'apertura di oggi. Il messaggero Abruzzo si occupa dell'infanzia a rischio. Sempre meno bimbi e mancano i pediatri. Da un report emerge spopolamento, carenza di medici, specialisti e disuguaglianze. E' un futuro incerto per i piccoli. E poi droga all'aquila tra i clienti. Anche un autista di scuolabus. E poi ancora alla vigilia della Cassazione Rigopiano l'accusa dei parenti non hanno voluto indagare la sorella di Lorena. Dopo tre mesi voglio giustizia. Ed ancora Pescara, case popolari liberate dagli occupanti senza diritto. Ed è giallo sul morto nel sangro. Ha numerose ferite sul corpo. E poi Roma-Pescara, nuovi ritardi sulla tratta del Lazio. E vediamo la notizia a fondo pagina. La paura, scabbia, due casi a Teramo e l'Aquila, ma niente allarme. Ed ancora le notizie in taglio alto. La battaglia, tribunali non provinciali, speranze per il salvataggio. E poi Teramo, liceo delfico sotto sequestro. Ultimatum di due giorni. Ed infine la Serie C, Pescara pronto per il Milan vincere il match e allungare, scrive il messaggero Abruzzo. Ed ora dai quotidiani regionali ci spostiamo sui quotidiani nazionali. Sulle prime pagine di oggi c'è la guerra, in particolare quella tra Ucraina e Russia, con Putin che cambia le regole sulla bomba atomica e dice di essere pronto ad utilizzarla anche in caso di attacchi convenzionali. Poi ancora si parla anche di sanità malata con lo sciopero di medici e di infermieri contro la legge di bilancio. Allora andiamo a vedere insieme. Partiamo come sempre dal Corriere della Sera. In apertura atomica, Putin alza il livello. Lo zar rispossa nucleare ad attacchi convenzionali. La Casa Bianca dice irresponsabile. La Premier Meloni dice noi con l'Ucraina. Da Kiev missili USA sulla Russia. Libano otto razzi di Hezbollah contro la base italiana. E poi il Nobel con la I si apre l'età dell'oro per la scienza. E poi ancora vediamo che sulla prima pagina di oggi del Corriere della Sera c'è anche il processo Regenite e Simoni dicono era sfinito dopo le torture. Ed ora dal Corriere della Sera ci spostiamo sulla prima pagina della Repubblica. Anche la Repubblica si occupa della situazione relativa alla guerra in Ucraina. L'arma nucleare di Putin, Kiev, lancia i primi missili USA sul territorio russo. Dal Cremlino il Presidente cambia la dottrina sull'atomica. Pronti ad usarla anche in risposta ad attacchi convenzionali. I paesi europei del G20 noi sempre con Zelensky assicurano. Poi razzi contro la base italiana Unifil. Netanyahu a Gaza. 5 milioni per ogni ostaggio liberato. E poi il post regionali, Meloni, la Premier, apre il processo nel centro-destra. Autonomia è scontro. Ed ora dalla prima pagina della Repubblica ci spostiamo sulla prima pagina del messaggero. E vediamo subito l'apertura del giorno. Anche qui stessa apertura. Primi missili USA sulla Russia e Putin minaccia l'atomica. Dopo il via libera di Biden, Kiev lancia sei attacchi sulla regione di Ryansk. Il Cremlino aggiorna la dottrina nucleare. Potremo reagire contro l'Ucraina. E poi i radii Crosetto e Tajani, che dicono intollerabile, Hezbollah colpisce Unifil 5 italiani in infermeria. E poi c'è una storia. Parla la suocera del 18enne morto nella fabbrica abusiva d'Ercolano. Nemmeno i soldi per fargli il funerale. Poi ancora c'è la Premier Meloni che dice Interroghiamoci sul voto e sulle donne difende Valditara, Bruxelles, verso l'accordo su Fitto, l'appello di Prodi e Monti. E poi ancora il campo largo. Per la gamba centrista spunta la carta Ruffini. Ed ora ci spostiamo dal messaggero sul tempo. Vediamo subito l'apertura del giorno. Il tempo titola il giubileo degli scioperi. Il no di Landini al Papa. Il segretario CGL della rivolta sociale non firma il protocollo per l'anno santo e Roma si prepara al caos generale. Qualtieri inventa Cerbero per castigare gli automobilisti. E poi c'è anche il nuovo leader sulla prima pagina del Tempo di Pasquale, il cementista che piace ai riformisti e niente nutrie. Ed ora dalla prima pagina del Tempo diamo uno sguardo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. In apertura, l'escalation della guerra. Kiev, primi missili americani in Russia. La Germania prepara le aziende alla guerra, scrive il Fatto Quotidiano. Meloni sull'attenti, capisco, li usa. Ma la Lega critica. Gaiani, i razzi non fanno vincere l'Ucraina. In foto ci sono Biden e Putin. Ed ora dal Fatto Quotidiano ci spostiamo sulla prima pagina del manifesto. Il manifesto oggi sceglie un'apertura diversa. Si occupa di sanità. In foto c'è appunto un ospedale, molto probabilmente un pronto soccorso. E il manifesto titola La chiamavano sanità. Il pronto soccorso sotto stress, reparti in emergenza, cure rimandate. La salute italiana è malata e definanziata. Anche l'Ocse lancia l'allarme. Medici ed infermieri sono ancora senza risorse, senza sicurezza e anche senza risposte dal governo. Oggi scioperano, scrive il manifesto. E poi i missili USA a lungo raggio sulla Russia. Mille giorni di guerra. Putin cambia la dottrina nucleare. L'Europa spinge sugli armamenti. Ed ora dalla prima pagina del manifesto diamo uno sguardo alla prima pagina del quotidiano. La verità. In apertura ancora una volta Landini che sciopera anche contro il Papa. Scrive la verità, i deliri di onnipotenza del segretario della CGL. Dopo aver blaterato che il sindacato rappresenta il popolo più del governo, l'ex leader della FIOM rompe con le altre sigle sul patto in vista del giubileo. Vuole mettere le sue battaglie politiche persino sulle spalle dei milioni di pellegrini che arriveranno a Roma, scrive la verità. E poi c'è la foto di Trump, l'annuncio anticlantestini. La Casa Bianca schiererà l'esercito. E poi ancora, a centropagina, i magistrati si autoassolvono, scrive la verità. Loro possono farsi raccomandare la PM Lotti, confermata malgrado l'incontro con un politico per agevolare le promozioni. Ed ora, dalla prima pagina del quotidiano, la verità, diamo uno sguardo alle notizie di economia e finanza che riguardano l'Italia. Vediamo subito la prima pagina del Sole 24 ore. In apertura il Sole si occupa di scuole, il 40% ricostruite con il PNRR. L'edilizia assorbe il 78% dei 12 miliardi che il piano dedica all'istruzione. in campo 36 mila progetti per lotta alla dispersione, innovazione e formazione. E poi il Sole si occupa di Panetta, che dice la BCE sia più esplicita sulle mosse future. Poi, anche sulla prima pagina, il Sole 24 ore, c'è la sanità, liste d'attesa, speso solo il 30% dei fondi. E poi ancora, vediamo in taglio alto, la guerra in Ucraina, missili made in USA per un attacco in Russia. Mosca evoca il nucleare. Ed ora, dalle notizie che riguardano l'economia e la finanza italiana, diamo uno sguardo alle notizie che riguardano lo sport. Sulla Gazzetta dello Sport, allarme gol. La Juve pensa al cieco, signora Schick. Il club si è convinto, a gennaio serve la punta oltre ai due difensori. L'obiettivo di Vlaovic è tornare con l'Aston Villa. E poi l'Italia vede doppio, sogniamo con il tennis. Oggi la Paolini ci guida in finale, la banda Sinner da domani in Davis. E poi la Gazzetta dello Sport, si occupa anche della rivoluzione francese, la rabbia dei tifosi. E anche di quanto costa lo scudetto. L'Inter svetta e ora taglia, la Dea spende più della Lazio. Ed ora andiamo a vedere il palensesto di oggi sulla nostra rete. Alle 11.00 extra time, la replica del programma condotto da Valentina Ciarlante. Alle 12.30 la replica di replay condotto da Franco De Santis. Gli highlights del girone B della Lega Pro. E poi alle 14.00 la prima edizione del nostro telegiornale. Nel pomeriggio ancora extra time e camminando molise. Alle 19.30 l'edizione serale del nostro TG. Alle 21.00 viva la musica con Gigione. E alle 23.00 l'ultima edizione del nostro notiziario. Bene, la nostra rassegna stampa termina qui. Io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione. E auguro a tutti voi una buona giornata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.